Delfini metropolitani è un progetto di ricerca a lungo termine, gestito dalla Fondazione Acquario di Genova. Il suo scopo è studiare i delfini che popolano le coste Liguri, all'interno del santuario Pelagos, l'area marina protetta di circa 87.500 km2. La ricerca si concentra soprattutto sul Tursiope, una specie delfino che vive principalmente nell'area costiera, maggiormente antropizzata, da qui il nome del progetto Delfini metropolitani, ed ha imparato a relazionarsi con le attività umane, traendone vantaggio. Il Tursiope non è un animale che rischia la collisione più delle volte, cioè di essere investito, però quando l'ambiente è troppo pieno della nostra presenza, allora quel territorio diventa più difficile da sfruttare per lui e quindi il rischio è che ci sia quella che si chiama una frammentazione dell'habitat. E quindi è importante imparare ad andare per mare, essendo consapevoli che quel mare è la casa di alcuni animali. Un progetto che unisce la ricerca scientifica alla tutela dell'ambiente marino, ed è stato possibile grazie alla collaborazione tra Fondazione Aquario di Genova, la Lega Navale di Chiavari a Lavagna e Marina Chiavari. Sono stato contattato all'acquare, questo fa piacere perché vuol dire che la nostra attività, sia come Lega Navale in generale, nazionale, siamo su tutto il territorio nazionale, quindi siamo conosciuti, ma anche proprio localmente, sta dando dei frutti anche di sinergie, che è un po' la filosofia che io ho sempre nelle mie iniziative, cioè mettersi insieme per ottenere dei risultati. Marina Chiavari tramite il Comune ha messo a disposizione le sue strutture, cosa che rientra anche tra le attività previste da Marina Chiavari, che sono proprio quelle di cercare di avvicinare la popolazione a tutto quello che è l'ambiente marino. Le parti sperano di collaborare in futuro ad altri progetti di tutela e valorizzazione ambientale. Tra le iniziative già in programma, una serata della rassegna Uomini e Navi sarà dedicata ai risultati della ricerca.